CONSTATO! CONSTATO! CONSTATOR! Dominio. Vado qui! Tutti gli obiettivi vanno catturati e difesi. Guardalo! Lancio una granata Prendiamo bravo Perdiamo Charlie Controlliamo bravo Guardalo le spalle Sto ricaricando Prendiamo Charlie Prendiamo Alpha Ti copro le spalle Sto ricaricando Siamo in vantaggio Non spararmi Lancio una granata Attenzione Cambio caricatore Perdiamo Charlie Controlliamo due abiti Inviare UAV di disturbo Marco le corno 1-1 Chiedo una ricognizione Inivocatura bravo Siamo sull'obiettivo Alpha Mi hanno colpito Mi hanno colpito Bravo perso Ricarico Lancio una granata Attenzione UAV in uscita dall'area operativa UAV di disturbo pezzo Granata Lancio una granata Sto ricaricando Sto ricaricando Mi hanno beccato Attenzione Granata Siamo sull'obiettivo Bravo Siamo sull'obiettivo Siamo sull'obiettivo 1-1 Chiedo una ricognizione Confermato UAV attivo Finito solo dell'area Siamo sull'obiettivo Lancio una granata C'è chino a terra Obiettivo starle al sicuro Attenzione UAV in uscita Mi hanno beccato Lancio una granata Perdiamo Alpha UAV alleato online Lancio una granata Alpha perso Il nemico cattura Charlie Siamo sull'obiettivo Bravo Garza Versaglio a terra Prendiamo Bravo Prendiamo Alpha Explosivo aereo strategico in arrivo Lancio una granata Siamo sull'obiettivo Alpha Ti guardo le spalle Siamo sull'obiettivo Siamo sull'obiettivo L'ho centrato Il nemico cattura Charlie Perdiamo Charlie Lancio una granata Guardian alleato attivo Guardian nottile in capo Lancio una granata UAV alleato in zona Granata Granata Attenzione Stai dietro di te Devo ricaricare Lancio una granata Lancio una granata Lancio una granata Lancio una granata Due obiettivi catturati Il nemico cattura Charlie Il nemico a Charlie Siamo sull'obiettivo Bravo Lancio una granata Lancio una granata Obiettivo Bravo al sicuro Il nemico prende Bravo Lancio una granata Lancio una granata Nel nemico a terra Ti guardo le spalle Siamo sull'obiettivo Charlie Lancio una granata Obiettivo Charlie al sicuro UAV alleato online Il nemico prende Alpha Prendiamo Bravo Cambio caricatore Perdiamo Charlie Munizioni qui Siamo in vantaggio Lancio una granata Perdiamo Alpha Siamo a metà missione Dobbiamo obiettivo Alpha Compromesso Riprende UAV alleato in zona Il nemico catturato UAV in attesa 1-1 Disservano una ricognizione Lancio una granata Perfetto 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 Inviare Attenzione Ricevuto UAV di disturbo In azione di interferenza UAV fine autonomia Perdiamo Charlie Granata Attenzione Granata Granata Attenzione Il nemico cattura Charlie Obiettivo Farmi compromesso Riprendetelo Mi sparano addosso Mi sparano addosso Mi liberate quelle postazioni Il nemico cattura bravo Il nemico cattura bravo Il nemico cattura bravo Il nemico cattura bravo Prendiamo Charlie Mi hanno peccato Lancio una granata Starly sicuro Qui c'è un potenziamento Da campo attivo Il nemico prende bravo Siamo portati in terra Siamo sull'obiettivo Alfa L'ho centrato Il nemico cattura bravo Prendiamo alfa Travo perso Lancio una granata Ranciare Naturalmente Granato 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 V Avvia Aleato online. Siamo sull'obiettivo Charlie. Lancia una granata! Mi versatelo! Il nemico ha catturato tutti. Obiettivo Charlie assicuro. Guarda dove spari! Mi attaccano! Ti copro le spalle! Marco un nemico! Perdiamo Charlie! Lancia una granata! Non spararmi! Mi sento a Charlie! Attenzione! Granata! Prendiamo Charlie! Prendiamo bravo! Contatto con truppi! Granata lanciata! Mi spavano addosso! Abbiamo tutti gli obiettivi. Non fatti. Il nemico cattura Charlie. Siamo portati in testa. Obiettivo Charlie assicuro. Riprende guardi e aliato. Il nemico prende bravo. Attenzione! Granata! Attenzione! Tu avvi uno di ricavità e il nemico catturato. Guarda dove spari! Non vedo che stagli avvistati! Esplosivo aereo strategico in arrivo. Non passato! Non passato! Non passato! Non passato! Non passato! Non passato! Stiamo mettendo in fuga! Braccatemi! Sistema! Controlliamo due obiettivi! Il nemico cattura bravo! Siamo sull'obiettivo Charlie! Obiettivo bravo compromesso! Riprendetelo! Guarda dove stava! Non spararmi! Ottimo lavoro! Siamo sull'obiettivo bravo!